Questa attività nasce 5-6 anni fa come laboratorio per fornire altri negozi che abbiamo in Messico con prodotti un po' particolari che non si trovano nel mercato e che sono prodotti artigianali soprattutto di biancherie per la casa. Noi siamo specializzati soprattutto nelle tovaglie. Usiamo tessile italiano soprattutto di alta qualità. Tutto è tagliato a mano, tutto è finito a mano. Dove siamo noi in Messico? Abbiamo un turismo di livello molto alto sia dal punto di vista culturale che economico. Ovviamente l'Italia è riconosciutissima nel mondo e in particolare nel continente americano per i suoi prodotti, per il suo artigianato, per la moda, per l'arredamento. I nostri clienti cercano cose particolari. Per quello che abbiamo deciso di fare questo laboratorio in Italia per presentare prodotti che non siano così commerciali, che siano tutti prodotti particolari, molto spesso fatti anche a mano, personalizzati, fatti su misura, da portare in Messico. A un certo punto abbiamo deciso di aprire le porte anche al pubblico qui in Italia anche perché la mia famiglia ha un'esperienza di tanti anni nel settore della biancheria per la casa. I miei genitori, la mia mamma ha avuto un negozio a Pieve di Soligo per tanti anni, quindi abbiamo ripreso un po' questa cosa. Perché proprio follina? Perché ci siamo innamorati di questo posto meraviglioso. Eravamo a Pieve di Soligo in un posto altrettanto bello che è la corte del Medà, però in uno spazio molto piccolo. Avevamo bisogno di crescere, abbiamo cercato tanti posti, abbiamo fatto la corte a questo posto meraviglioso, abbandonato per diversi anni finché finalmente siamo riusciti a prenderlo ed è, trovo che sia un piccolo gioiello nella già bellissima follina. Sì in Italia che in Messico c'è un grande amore secondo me per l'intrattenimento, per la bella vita, bella vita nel senso di vita, di convivialità, di piacere, di stare a tavola. La cucina messicana è una delle migliori cucine del mondo, come la cucina italiana d'altra parte. e c'è un grande amore per tutto quello che è artigianato, manualità, eleganza, lusso anche. E l'Italia rappresenta assolutamente, perfettamente bene l'eleganza, il lusso, l'artigianalità per i prodotti che offre. Importando in Messico prodotti sia di biancheria per la casa che di oggettistica, importiamo oggetti di artigiani fantastici italiani, sia di ceramica che di vetro soffiato, che argenterie, porcellana, un sacco di cose per quel che riguarda l'oggettistica, e poi il tessile, dove Italia è maestra. Il migliore tessile del mondo è in Italia e in Europa. Usiamo anche dei filati europei e dei tessuti europei dal Belgio, dalla Francia. Compriamo i tessuti, li trasformiamo e li mandiamo in Messico. Abbiamo vetro soffiato, lavoriamo in rame, abbiamo iniziato a lavorare con artigiani messicani molto bravi e dal Messico importiamo qua sia manufatti di rame che, non di vetro soffiato perché è più difficile, poi siamo attaccati a Venezia. però di varie cose, per esempio di terracotta, di ceramica, di pinta a mano, di ferro battuto, dove i messicani sono maestri. E qualcosa di tessile. Diciamo che c'è uno scambio tra l'Italia e il Messico per tutto quello che è artigianato importante, artigianato di alta qualità.